Buonasera a tutti ragazzi, allora c'è stata questa serata di presentazione del nuovo logo Non nascondo che speravo dato che era una cosa in grande che dopo il logo venisse ufficializzato Modric Però così non è stato ovviamente Comunque dopo questa serata ho scoperto che oltre a essere direttori sportivi, presidenti, allenatori, calciatori E quant'altro, insomma siete anche esperti di design Perché vedo molte critiche sul logo Allora ragazzi, premettendo che con la fine di questo logo che comunque verrà penso messo sulle magliette Dalla prossima stagione, quindi 2017-2018, dato che Agnelli parlava di 120 anni Il 120esimo anno scatterà il primo novembre, quindi penso che inizierà dalla prossima stagione Premesso questo, sappiamo, questo logo che non ci sarà più E godiamoci con questi ultimi mesi È la, diciamo, fine di una generazione che alla fine noi, quelli della mia generazione Sono cresciuti con questo logo qui E bene o male ci eravamo anche affezionati E quindi un po' dispiace Dispiace perché quando le cose cambiano Dispiace sempre all'inizio Lo è stato, mi ricordo, anche nel 2005, mi sembra, per l'inno della Juventus Cancellato il vecchio È arrivato il nuovo Molti erano dispiaciuti Altri incazzati con il nuovo inno perché non piaceva E poi adesso tutti lo cantano Quindi è la stessa identica cosa Adesso tutti sono scettici Come le magliette all'inizio Ogni inizio anno Ci sono le magliette nuove E sempre a qualcuno Anzi, a molti, quasi tutti, non vanno bene Poi tutti se le comprano perché sono belle, sono belle, sono belle È sempre così Quando ci sono i cambiamenti non piacciono mai Però poi tutti vanno dietro i cambiamenti Perché è normale La Juventus, il nuovo logo è la Jay Perché secondo me hanno fatto quello? Anche per una questione proprio Come è stato detto all'inizio della presentazione Che la Juventus è sempre stata associata alla famiglia Agnelli Alla famiglia Agnelli Ricordiamo Gianni Agnelli quando diceva che quando legge Jay Gli veniva sempre in mente la Juventus Allora non penso che sia stato uno dei motivi Fatto la Jay Anche per ricordare Penso un grande presidente Come Gianni Agnelli Poi per il resto Il logo può piacere o non piacere Ripeto all'inizio Non piacerà a nessuno O pochi A me sinceramente non è che dispiace tanto Molti dicono 7-8 mesi per fare sta cagata Non è che per fare due righe Ci hanno messo 7-8 mesi Per mettersi d'accordo Per Voi non sapete dietro un logo cosa c'è Sono sponsor Ci sono soldi che girano Ci sono tante cose Non è che il logo su due righe Prendi un cazzo di Uno che sappia disegnare Gli fai fare il logo Non è così ragazzi Il logo è molto più grande Il logo rappresenta un'azienda Perché anche nelle aziende Sì insomma Che producono varie cose C'hanno i propri loghi Ma vengono lavorati dietro Cioè prima di presentare il logo Viene deciso Si discute e quant'altro Quindi il logo non è un disegno di merda Va bene Il logo è una cosa decisa In precedenza Con vari punti Insomma Di D'accordo Insomma Di Se sono d'accordo o meno Ecco Questa è la verità Poi Ripeto Il logo Noi ci affezioniamo Affezioniamo al logo Giustamente Però quello che Non deve mai cambiare È la passione Per il nome Juventus È normale che poi Ripeto Anch'io ero molto affezionato Al vecchio logo E quando cambierà Dispiacerà Però Come ha detto Andragnelli Questo è un È una Diciamo È un logo Per il futuro Per espanderlo A livello mondiale Perché se vogliamo Ragazzi È sempre là Il calcio non è più come una volta E comunque i loghi Li abbiamo cambiati anche prima Ma non è più come una volta Come lo immaginiamo noi Tanti anni fa Il calcio bello Giocato in Italia E quant'altro Se noi vogliamo stare Al passo Con le grandi squadre Con le grandi società D'Europa Dobbiamo rinnovarci Continuamente E per stare al passo Dobbiamo far appassionare Di Juventus Purtroppo Purtroppo Anche Altri tifosi Di altri paesi Che stanno A migliaia Di chilometri Da qua Come in America Come in Cina Come Giù per di lì E questo logo Rappresenta Proprio Diciamo La globalizzazione Ufficiale Della Juventus Da come L'ha detta Andragnelli A me Io sono sempre stato Contro La globalizzazione Però Questi sono Pensieri politici E Non voglio entrare in merito Però Io sono sempre stato Contro la globalizzazione Non mi piace Questa globalizzazione Neanche Della Juventus Però Dall'altra parte Ripeto Anche quando si parla di calcio Che dico Bisogna essere equilibrati Bisogna essere equilibrati Anche quando si giudica Queste cose qua Anche perché non sappiamo Tutto quello che c'è sotto E Da una parte Non voglio la globalizzazione Della mia società Della mia squadra Però Dall'altra sono consapevole Che se noi vogliamo puntare A quella fatidica coppa Purtroppo Si passa Anche da queste cose Comunque Oggi Andragnelli Prima Di presentare il logo Ha tirato delle stilettate Giustamente Secondo me Alla squadra Ad Allegri Cioè stilettate Più che altro Come dire Sveglia ragazzi Noi Noi in campo Dobbiamo andare sempre per vince Non solo la partita Perché noi abbiamo Quell'obiettivo finale E quella è la verità Punto Concordante o no Insomma Che sappiate ecco Esporre la vostra opinione Sempre senza insultare Questo è importante Perché io Mi sono rotto il calcio Inizio a bloccare A bannare Mi sono veramente rotto i coglioni Ragazzi Perché Fare i video Non ci guadagni Praticamente una sega E poi Prendersi sotto Insulti Offese A madri Padri Cani Gatti E tutto quello che volete Io veramente Mi sono rotto il cazzo Io lo faccio per passione Lo faccio perché voglio Parlare di questo Ambiente Juventus Soprattutto con voi Però non Cioè Gli insulti A un certo punto Basta Mi sono veramente Rotto il cazzo E inizio a bannare A bloccare Non è per essere Dittatori Ma perché questo è il mio canale E mi sono rotto Veramente il cazzo Di leggere sempre I soliti commenti Un saluto a tutti Sempre fino alla fine Forza Juventus E andiamo avanti Anche Vivendo il presente Pensando al futuro Fino alla fine E andiamo avanti E andiamo avanti La Juventus Per sempre sarà E andiamo avanti E andiamo avanti E andiamo avanti